C'è tempo fino al 18 gennaio per presentare i lavori per il concorso organizzato dalla consulta europea regionale Diventiamo cittadini europei, dedicato alle scuole superiori. I temi di quest'anno sono legati alla solidarietà tra gli Stati europei e alla possibilità in futuro della creazione di un'unica federazione. La consulta regionale europea prosegue anche quest'anno l'opera di sensibilizzazione verso i principali temi europei, soprattutto quelli legati alle generazioni più giovani. Il 2013 inoltre è stato proclamato l'anno europeo dei cittadini. In occasione di questo appuntamento così importante la consulta ha come di consueto bandito il concorso dedicato alle scuole Diventiamo cittadini europei, giunto con quest'anno alla 29esima edizione. I temi principali sono quelli legati alla solidarietà tra gli Stati europei e quello della reale, possibile e futura costituzione di una federazione europea.